ciao marco ciao andrea che fai bene e devo uscire cosa devi fare devo uscire devo andare proprio qua e ti faccio vedere le montagne russe prima dosso è un bel percorso ogni giorno devi fare questa strada e adesso se non ci fossi stato io dietro saresti caduto all'indietro si sembra la cosa giusta